buon pomeriggio a tutti ragazzi allora sto cercando di fare sto benedetto video per scacco matto ma puntualmente mi interrompono e già la terza volta che mi chiamano sul cellulare allora ragazzi voglio parlare un attimo di scacco allora io ho sentito scacco ieri scacco è a terra per perché perché qualcuno puntualmente lo offende ok cosa è successo è successo che lui quest'anno domenica ha fatto una live ha lasciato il link per vedere c'è per per far vedere le partite a persone che non hanno sky o comunque non hanno un sito per vedere le partite ok questo ragazzo o un ragazzino non so l'età non lo conosco e non mi interessa perché è veramente merito cos'è successo che lui l'ha offeso ok dicendo che è un canale fake dicendo che dai siti fake raga calma calma con le parole perché sinceramente state stancando scacco via vi ha detto allora cosa detto fa ragazzi guardate che il sito funziona solo sul computer non funziona tramite cellulare se voi l'aprite dal cellulare non va ok questo fenomeno cosa ha fatto perché un fenomeno l'ha aperto dal cellulare e ovviamente non va ok se scacco ti dice guarda che il sito non va dal cellulare perché ti devi ostinare ad aprirlo col cellulare che non funziona e poi lo insulti che colpa ne ha scacco spiegamelo o sei deficiente tu o scacco che imbranato ma non credo cioè se se scacco ti dice così vuol dire che lo sanno che dici visto che lei ha aggredito per bene con me non funziona sta cosa ricordatelo visto che scacco fa parte della della mia e della compagnia che c'è carta e quant'altro non ti permettere più di offendere scacco perché veramente divento cattivo cioè voi mi vedete che sono buone caro rido scherzo con tutti ma non fatemi girare i cinque minuti perché poi sinceramente diventa una furia ok e credetemi non è bello per chi mi conosce se mi incazzo detto questo mi auguro che questo ragazzo abbia capito ok perché scacco ha solamente detto a più dal computer se se voi non capite l'italiano non è colpa di scacco ok detto questo una cosa chiamato più fastidio è stato nella sera nel serale la moglie carta stavamo cercando di far partire la live soltanto che ha avuto problemi di connessione ha avuto problemi di connessione e cosa è successo che qualcuno ha iniziato a dire che non faccio nomi e ne cognomi perché per la privacy è giusto che sia così ha iniziato a punzecchiarlo dicendo carta e di te mi fidavo carta sei un po caro carta di qua carta di la allora mettiamo le cose in chiaro forse tu non conosci carta ma io lo conosco più o meno quasi da tre anni non ha mai pagato nessuno primo secondo ti ho scritto io ti ha scritto carta stiamo lavorando perché ha dei problemi punto siamo capiti poi continuavi ok a punzecchiare un'altra volta allora quando le persone ti scrivono e ti dicono stiamo lavorando a questo guasto ok a questo problema sul computer non è che se lo risolvi in cinque minuti ok non è che fai così e passa tutto ok nel senso che che torna a posto quello tutto come prima no ok siamo riusciti a metterlo a posto quando la partita è iniziata a lì circa era il ventesimo ventesimo venticinquesimo del primo tempo perugia chievo e poi c'erano gli altri di serie a che c'ero io in line cioè ero su skype con lui per cercare di mettere a posto questo problema ok visto che cioè non credo che sia così difficile capire una persona quando dice ragazzi stiamo avendo dei problemi al computer e dai su cioè non ci vuole una scienza di di marconi per capirlo e poi carta ha fatto un video scuse dicendo che ha avuto dei problemi sia di connessione che di di computer ok e io mi auguro che questa persona veda questo video visto che eravamo io e lui ti rispondo farà con con la faccia ok come è stato dopo dal venticinquesimo trentesimo abbiamo deciso di fare la live su twitch perché era predisposto su twitch e l'abbiamo fatta su su twitch perché comunque doveva cambiare tutto eccetera eccetera cambiare chiave insomma era un macello perciò quando io dico ragazzi aspettate ci sarà un motivo no ecco se carta scrive stiamo avendo dei problemi non è che se ne inventa le cose no ecco questo volevo dire cioè un video un po un po così incazzato perché purtroppo certe persone non capiscono quando parliamo o siamo arabi o non capite l'italiano o non lo so perché se no vado a offendervi ok questo voglio dire e mi raccomando rispetto a scacco perché veramente io mi batto per il per il rispetto perché come voi volete rispetto vogliamo rispetto anche noi perché noi siamo dietro a un cellulare a un a una videocamera a qualsiasi cosa per portare i contenuti e voi offendete cioè vi dico una cosa fatelo voi al posto nostro una cosa del genere voi che che insultate ok prende prendete un cellulare prendete qualsiasi cosa e fate un video vediamo se avete le palle facciamo così ok ragazzi finisco qua perché se no mi mi irrito e basta l'ultima cosa che volevo dire saluto diritto privato diritto di svago quello quello che è avete sentito cosa è successo mi raccomando quando aprirà il canale andate da lui iscrivetevi perché è merita è un bravissimo ragazzo purtroppo gli sono entrati nel nel canale insomma e gliel'hanno zanzato ok detto questo ragazzi vi saluto e alla prossima ciao 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 ciao